Rimaniamo in Regione perché è arrivata la firma per quanto riguarda il piano strategico per la sicurezza sul lavoro voluto dalla Regione Veneto dopo l'incidente alle acciaierie nel quale ha perso la vita l'operaio Sergio Todita. Un piano contro i morti sul lavoro, una firma importante, quella che è stata messa oggi a Palazzo Balbi, sede della Giunta regionale del Veneto, per attuare misure concrete contro infortuni e malattie professionali. A fare fronte comune, Regione, Ispettorato del Lavoro, INA, Il Vigili del Fuoco, Sindacati e Associazioni di Categoria. Il tutto a poco più di due mesi dall'incidente alle acciaierie venete e al termine di sei mesi tragici dal punto di vista dei decessi sul lavoro, già 33 da inizio anno. Otto le aree di intervento previste dal piano 2018-2020, 9 milioni di euro il budget a disposizione. Tra le misure principali l'assunzione di 39 operatori Spisa e l'aumento dei controlli nelle aziende della Regione. È il primo livello nazionale, lo invierò ai miei colleghi presidenti delle Regioni e tutte le associazioni lo manderanno i loro omologhi a livello nazionale. Quindi diventerà una rete endemica, una distribuzione endemica di questo modo di fare, mettere tutti assieme e poi operare. Si farà formazione, si metteranno in contatto i nostri controllori con i responsabili aziendali che andremo nelle scuole in ogni ordine e grado a parlare di sicurezza nel lavoro. Dobbiamo diffondere una cultura della sicurezza nel lavoro a 360 gradi, non possiamo puntare solo i settori critici.